la vetrina delle idee la tua azienda il tuo negozio la tua attività sotto i riflettori per parlare direttamente agli ascoltatori per far conoscere ai consumatori i prodotti le iniziative le promozioni le eccellenze del territorio buongiorno amici della vetrina delle idee oggi sono a medicina sono in una trattoria e sono come potete vedere sono dalla trattoria Giovanna qui ho il titolare che è Claudio Andalò buongiorno Claudio buongiorno ciao perché insomma noi ci conosciamo da tanto tempo perché siamo qua dalla trattoria Giovanna perché è uno dei pochi se non l'unico che durante la pandemia mentre si era disperati molti purtroppo hanno dovuto chiudere altri aspettavano la gente che andava a comprare da mangiare lui si è reinventato un qualcosa che gli ha insomma fatto fare di grossi risultati dico bene Claudio ci vuoi parlare di questa cosa partendo dalla chiusura arrivare ad oggi? siamo partiti con con tutto quella quella baradama qua del covid che alla fine ci siamo inventati le consegne noi facevamo solamente un po' di trasporto con la pizzeria e invece in quel periodo lì non ci siamo messi sul divano ma ci siamo riboccati le maniche ci siamo montati in un'avventura che non conoscevamo però l'abbiamo iniziato subito con prendendo un camioncino coibentandolo per il trasporto alimentare quindi per avere un'igiene totale di tutti gli alimenti tutti che fossero trasportati nella maniera più più compatibile in maniera più giusta e da lì dopo è andato bene quindi ci siamo siamo riusciti a servire le aziende che avevamo già come clienti al ristorante e quindi servendo loro e poi dopo abbiamo messo i volantini e tanta pubblicità con mia figlia Clarissa su su internet su facebook sui social e da lì siamo riusciti a a prendere piede nel comune di medicina e anche nelle comuni limitrofi visto che arriviamo ora fino a san lazaro bologna austria grande abbiamo fatto in quel periodo la moltissime consegne dal teto quindi era poi tutto più semplice perché per la strada c'era molto meno traffico c'era più veloci c'era più veloci però ora lo stiamo mantenendo ed è un servizio che è molto prestato infatti sono diventati tre i camioncini e tre gli autisti nel weekend e poi ne ho due durante la settimana quindi alla fine siamo riusciti come si dice in dialetto a sbalcare il lunario, sbalcare il lunere che siamo rimasti aperti, siamo rimasti attivi siamo rimasti sul pezzo quindi non ci siamo fermati e c'è rimasto l'entusiasmo e la voglia di fare bene il nostro lavoro e soprattutto la mossa vincente nelle consegne è stato di mettere totalmente il nostro menù quindi noi non facciamo solo le consegne con la pizzeria che poi vi spiegherà meglio le nostre pizze così mia figlia ma abbiamo fatto tutta la consegne con tutti i prodotti i piatti che noi facciamo a partire dall'affiettato con le crescentine i primi la carne e tutto quello e quindi e oggi abbiamo preso un numero che guardavamo la fattura l'altro giorno abbiamo preso più di 70.000 vaschette. Senti Claudio quindi io da casa mia come se fossi qua al ristorante apro il tuo menù, ordino e tu me lo porti a casa. E soprattutto la consegna sia che vengo a Dozzano sia che vengo a Castel San Pietro a Medicina o da altre parti è assolutamente gratis. Gratute. Sia per due margherite sia per quattro tagliate che i costi sono differenti. Questa è la dimostrazione che nonostante le crisi, le pandemie se la gente si sa reinventare c'è ancora molto spazio. Adesso volevo parlare perché Claudio non è da solo qua a gestire il ristorante c'è sua madre la Giovanna che adesso è là che sta facendo dei tortellini quindi non può venire ma abbiamo qua la figlia Claudio che così è lei che gestisce la pizzeria eccola qua ciao. Ciao Marino. Dunque tu sei quella che gestisce la pizzeria giusto? So anche che ti sei inventato una pizza dico bene? Sì abbiamo la focale micce che è bianca con le zucchine grigliate e all'uscita rucola spec bufale e un filo d'aceto balsanco. Ti voglio fare una domanda ti piace fare questo lavoro? Sì io sono nata dentro un ristorante quando ero bambina quindi se mi togli da questo ambiente sarei capace fuori d'acqua. E la pizza hai imparato ti hanno insegnato hai fatto corsi come sei diventata brava a fare la pizza? Inizialmente quando eravamo ancora nel ristorante precedente guardavo il pizzaiolo che avevo 12 anni più o meno poi qua ho iniziato a guardare appena ho iniziato che c'era una nuova pizzaiola tutto ho guardato mi è piaciuto e poi un giorno ho provato e ho iniziato a farle e diciamo sono venuto da sola ecco. Insomma pian piano le hai sempre migliorate. Dunque tu sei la terza generazione di questo locale perché abbiamo la nonna. La nonna la vedete dietro no? Dico bene ci spieghi chi sono i personaggi? Allora al centro c'è la Giuseppina Bertuzzi che era la zia della nonna Giovanna e l'altro signore è Bart Lancaster che è venuto che è venuto nel vecchio ristorante nel vecchio ristorante all'inizio per la cucina italiana e l'hanno portato in quel ristorante lì. Quindi è un ristorante che è tre generazioni una storia e so che tu hai una sorella anche lei pian piano. Sì sì lei è iniziato con le consegne Eleonora e poi dopo anche in cucina sa fare le crescentine, sa fare il mascarpone, è molto brava. Questa è la classica trattoria a gestione familiare dove ma poi si vede quando entrate come venite accolti insomma qua non si è tutti in punta di forchetta però insomma è il locale un bel locale e soprattutto si mangia bene ve lo dico io ve lo dico e che cosa vogliamo dire ancora non abbiamo detto dove dove siete l'indirizzo e il numero di telefono? Allora siamo in via di Furgo Fava Medicina e sulla San Vitale e il nostro numero di telefono è 051 857 457 Non so se vi ricordate in tempo di pandemia Medicina era stata chiusa, zona rossa, quindi era veramente difficile lavorare. Questa cosa che avete fatto vi dà ancora più onore perché l'unica cosa da fare allora era chiudere, starsene a casa e aspettare. Invece voi... Abbiamo continuato questo servizio anche perché noi avevamo molti clienti anziani che diciamo avendoli chiusi in casa, i loro figli non potevano neanche raggiungerli, quindi le abbiamo dato questo servizio anche ad alcuni gratuitamente perché poverini non riuscivano a uscire di casa. Questo è stato importante, mantenere il servizio. Sì ci siamo fatti voler bene a tutto il paese. A Medicina vi conoscono tutti, vi vogliono tutti bene, questo lo so. Che cosa dire ancora? C'è qualcosa che non abbiamo detto della trattoria? Direi che abbiamo detto tutto e vi invitiamo a venire e io ringrazio te, ringrazio Claudio e ricordiamo, se non potete venire anche perché dal 6 di dicembre ci sarà un nuovo stretta e non si può più andare ai ristoranti neanche con il tampone. Allora non volete farvi il tampone ma volete mangiare come al ristorante? Voi chiamate la trattoria Giovanna e loro, dovunque voi siate, vi portano le consegne. Ti ringrazio, ringrazio te, ringrazio tuo padre. Do appuntamento a tutti gli amici della vetrina delle idee alla prossima trasmissione. Buona giornata a tutti. La vetrina delle idee, la tua azienda, il tuo negozio, la tua attività, sotto i riflettori per parlare direttamente agli ascoltatori, per far conoscere ai consumatori i prodotti, le iniziative, le promozioni, le eccellenze del territorio. Grazie. 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 Grazie.